Una giornata uggiosa diventa luminosa se sul red carpet arriva il desiderato Brad Pitt. Il vivo torna singole a Cannes, al 65esimo festival, solo a Croazette e solo. Non c'è la promessa sposa Angelina Jolie. La data delle nozze non l'hanno ancora fissata, a parole sue. Quelle in giro sono solo frutto di rumor bufale. Sarà. Meglio volare in Francia e presentare un cruento ma pure simpatico noir di cui è protagonista. Bellissimo, con un look che ricorda vento di passioni, in abito beige e t-shirt bianca, Brad firma tantissimi autografi. Posa anche con un gendarme fan che vuole uno scatto con lui. Riporta persino indietro il pennarello a chi glielo aveva prestato tra la folla. Simpatico e bravo, è il vivo, quello che serve per accendere l'entusiasmo di tutti. Oliviero lo so, da gottica. Mancuccia e bravo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.